buongiorno ragazzi buongiornissimo allora cominciamo con una presentazione immediatamente che la presentazione di questo volto va bene il volto di un personaggio che adesso presenteremo e che sarà il protagonista della nostra lezione però per poter parlare di questo personaggio dobbiamo fare un passo indietro dobbiamo ritornare a quel pezzo di interrogazione che ieri ha tenuto ha affrontato il vostro compagno maschio interrogato e che guardava appunto la figura di pompeo al ritorno dal dall'oriente come forse vi ricorderete pompeo aveva conquistato praticamente tutto il vicino oriente e aveva portato di ritorno di ritorno dall'oriente un'eredità di aria a roma cosa aveva portato aveva portato la conquista la conquista di tutta questa zona qui del mondo e cioè vi ricorderete la trasformazione del regno del fondo del regno di bitinia della siria qui città qui in provincia direttamente sotto il controllo di roma e di queste altre di questi altri territori qua la galattia qua cappadocia qua la giudea la trasformazione di questi territori in protettoratico dei povani messi ma legati un vinco di sudditanza a roma e di fedeltà alla figura stessa di pompeo quando pompeo ritorna qui scusatemi a brindisi torna con un credito veramente immenso con un portato veramente straordinario che era quello del grandissimo prestigio ottenuto sia a roma sia nello stesso oriente in virtù dei suoi straordinari risultati per un verso per un altro verso portava ricchezze straordinarie perché significava per roma a stendere i propri territori a una zona del mondo ricchissima e dal quale quindi si potreva ricavare si poteva trarre profitti molto grossi per mezzo della tassazione per mezzo dei tributi ma è questo perché ragazzi questa zona qui come vedete questa che vi circondo con il cursore aspettate non avevo messo la presentazione ve la metto subito ecco questa zona qui vi dicevo questo che sto individuando con il cursore si trovava al croce via tra l'europa l'africa del nord l'asia il che significa quindi l'era che questa zona del mondo quello che per noi è il l'oriente era la zona da un punto di vista delle rotte commerciali mondiali di grandissimo rilievo ci siamo di tipo rilievo quindi dove passavano tante ricchezze e dove qui è possibile monetizzare va bene ricordate queste cose che sto dicendo perché poi ci serviranno allora ragazzi che succede succede questo e arriva arriva a brindisi in puglia e immediatamente applica la legge dice ok io rinuncio al mio esercito io rinuncio al mio esercito ma in cambio voglio due cose i miei soldati che mando a casa che io ho liquidato in questo modo ricevano un buon trattamento di fine rapporto potremmo dire oggi questo consisteva nell'affidamento a questi soldati nel tribunzione a questi soldati di appezzamenti in terra che avrebbero potuto permettere loro di vivere per il resto della loro vita in una discreta situazione di serenità questo da un lato dall'altro lato pompeo chiedeva chiedeva il riconoscimento del suo operato politico perché in realtà la costituzione di una provincia territorio al di fuori della penisola italica soggetto al controllo dello stato romano era una prerogativa del senato stesso ci sono e allora in realtà pompeo avrà fatto delle conquiste straordinarie e a follia pensare di abbandonare era pura follia pensare di rinunciare a questi territori questi che abbiamo visto del vicino niente che erano peraltro così ricchi ad altro tanto si poteva un problema di autorità del senato pompeo dice ma io rinuncio non abbiate paura non abbiate timore e piuttosto riconoscendo il senato lo riconosca il senato invece per punti io per dimostrare che non è che arrivava il primo uomo che individualmente ha successo e imponeva la sua legge e veramente la imponeva era nel senato non accetta queste richieste di pompeo risultato pompeo cerca delle sponde politiche cerca dei riferimenti politici uno era marco licinio casso e un altro invece era questo personaggio che vi ho mostrato poc'anzi ed era appunto questo qui caio giulio cesare caio giulio cesare adesso cosa possiamo dire di di quest'uomo ragazzi allora di quest'uomo noi possiamo dire una serie di cose adesso diciamo vi metto in una maniera spero più per per voi allora ragazzi caio giulio cesare nacque nel in un anno molto importante il 100 avanti cristo anno importante perché è un anno che si colloca tra le grandiose vicende politiche e militari di gaio mario e di lucio per il mio silla ora giulio cesare nasce nel 100 avanti cristo la sua fu per l'epoca una vita anche piuttosto lunga l'ha detto il visse 66 anni e 56 anni scusatemi non fosse stato per la congiura che fosse termine alla sua vita e gli avrebbe raggiunto un'età più ragguardevole ma per l'epoca 56 anni non erano per niente pochi come vedremo trucidato del 44 avanti cristo allora ragazzi caio giulio cesare è diventato un'icona della storia mondiale forse massima icona della storia mondiale il suo nome è diventato nella storia umana il termine caesar il termine con il quale si individuavano i sovrani di basti pensare di basti povere attenzione al fatto che lo stesso nome del sovrano di russia zar viene da czar che è una contrazione di casa va bene ok ci siamo allora caio giulio cesare apparteneva a una tribù a un'agenza scusatemi a un'agenza cioè un insieme di famiglie che si riconoscevano in un unico capostipite che era la cosiddetta quindi un insieme di famiglie che si riconoscevano in un unico capostipite era la gens o meglio come dicevano effettivamente i latini la gens la gens julia si chiamava così perché essi riconoscevano come loro capostipite giulo e chi è giulo giulo era il figlio è un personaggio mitico il figlio di un altro personaggio mitico che era il pio enea quel eroe che secondo l'epica antica ci è raccontata in maniera dettagliata rispetto a questa storia da pubblico virgilio trovo l'eneride quella quell'eroe originario di della città di ilio cioè troia che dopo la distruzione di troia era fuggito a troia stessa e si era attraverso le vicende recato fin nel latium nel lazio dove vede luogo praticamente a una dinastica e con agenza che poi sarà alla base del popolo romano giulo quindi è figlio di enea un suo discendente un discendente di giulo saranno due discendenti di giulo scusatemi saranno romolo e rebo i soldatori di roma e attenzione quindi romolo è un discendente di personaggi mitici anche questi discendenti di personaggi mitici romolo e remo come ci dice intanto la radice del loro nome che fa quindi carlo riferimento anche a roma non è presumibilmente brigine etrusca da un lato dall'altro lato ci avverte della miticità di queste figure il fatto che uno romolo e remo secondo un liceo un archetipo delle racconti mitici dell'epoca vengono messi appena nati in una cesta nel fiume per vengono allevati da una lupa vi faccio notare che lo stesso principio per cui nella bibbia il personaggio è fondativo rispetto alla civiltà ebraica così come romolo e remo sono fondativi rispetto alla civiltà romana nella bibbia il personaggio di mosè appunto viene anch'esso messo nelle acque del fiume nilo e viene per raccolto dalla figlia del faraone educato c'è un ulteriore un ulteriore elemento che ci rivela rivela come come romolo e remo siano figure mitologiche il fatto che romolo e remo sono due fratelli e al momento opportuno litigano e uno dei due uccide altro allo stesso modo di come nella bibbia per esempio succede con caino e bene bene ci siamo sono archetipi cioè punti nodali principali presenti nella narrazione caratteristiche antropologiche della narrazioni mitiche di quei millenni fa allora quindi questa gens julia a discendere da il caio giulio ci siamo va bene allora questo significa che la gente julia per cui il caio giulio caio 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 julius la gente l'agenza giulia guest julia vantava addirittura un'origine divina e ci capire quindi iulia era una ghans di tipo aristocratica va bene ci siamo quindi era quella a cui parteneva caio giulio cesare una gente aristocratica quindi una famiglia aristocratica infatti la famiglia di caio giulio cesare poteva vantare poteva vantare un gran numero di ex consoli nella scuola nel suo pedigree albero genealogico uno dei personaggi invece era un homo novus nuovo che e quindi suo non poteva vantare della sua famiglia proprio non poteva vantare discendenti appunto adi che avevano ricoperto importanti magistratura a roma era gaio mario il famoso gaio mario che abbiamo studiato nelle lezioni precedenti era uno zio di caio giulio cesare quindi caio giulio cesare ripoteva e questo gaio mario era una delle poche figure la cui proprio specifica famiglia non aveva non poteva vantare persone che avevano svolto grandi magistrature che l'arfinate gaio mario si connotava come homo novus invece alla famiglia specifica di caio giulio cesare poteva vantare addirittura tanti ex consoli poiché nipote di gaio mario poiché nipote di gaio mario però avete visto quello che succede nella congerie politica romana cioè nel contesto politico romano che succede così la le sue liste di proscrizione eccetera gaio mario ci ricorderemo che nel contesto politico di roma che vedeva da un lato i populares e dalla sul lato gli optimates gaio mario si collocava tra i populares e caio giulio cesare veniva associato appunto ai populares in ogni caso erano gli optimates a fare questo ora gli optimates noi sappiamo che erano proprio gli aristocratici ed erano colori quali appartenevano all'inarchia senatoria eppure la versione come dire pregiudiziale a prescindere degli optimates nei confronti della famiglia di caio giulio cesare si avvicinasse nonostante fosse aristocratico ai populares anzi diremo di più ragazzi quando ci saranno le liste di proscrizione della dittatura sillana e si la farà quella schifezza che abbiamo visto il nostro paio giulio cesare fugge da roma fugge giovanissimo da roma e si va a collocare nel tempo dell'italia centro-medionale nella zona detta sabina bene va a vivere lì per proteggersi allora uno dice mittica questo viene da una famiglia aristocratica sarà di antichissima origine di antichissima invece no perché in mezzo c'è quello 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 caos portato a dittatura pillana e dallo scontro senza senza come dire senza alcun pudore non è bella questa espressione tra populares e optimates per cui il contesto politico di roma era veramente incattivito ecco la famiglia di cesare era una che aveva subito gli effetti di fila quindi la perdita di proprietà la perdita di ricchezze la confisca di beni e infatti cambio giulio cesare anche se la sua famiglia era aristocratica non era ricca ed egli viveva in un quartiere di roma insieme alla mamma e i suoi fratelli in una modesta eh discreta che però era collocata in uno dei peggiori quartieri di roma vale a dire la suburra però cesare in quanto partirebbe una famiglia aristocratica di lontana tradizione politica che cosa fa c'era c'era fa questa cosa fa il suo bel cursus undorum paradio questa parolaSCRIvo perché anche se nel libro finora io non l'ho vista mai citata ma era una cosa sbagliatissima in realtà è uno dei più importanti che ci siano nel lessico politico romano e ve la scrivo subito allora è questa qua cursus honorum significa percorso o se preferite itinerario delle cariche politiche o se preferite meglio ancora delle cariche istituzionali va bene allora il cursus honorum che cos'era era praticamente il percorso che queste famiglie facevano questi personaggi politici facevano cominciando dalle varie magistrature basse di livello più basso innalzandosi tino era particolare aveva una carriera politica particolarmente fulgida e risplendente fino ad arrivare per esempio al consolato va bene allora anche cesare da buon aristocratico da una persona nella che aveva il dna delle virgolette ovviamente metaforicamente parlando della famiglia la vocazione politica ecco anche egli cercò di fare il suo percorso nelle istituzioni politiche romane il suo cursus honorum quindi affrontò diverse campagne elettorali diverse campagne elettorali queste campagne elettorali costavano e costavano un sacco di soldi soprattutto ormai però era diventato una superpotenza internazionale e allora per poter fare delle campagne elettorali cesare dovette anche indebitarsi abbastanza unico solo ho dimenticato a dirvi ed è questa che quando cesare seguito della dittatura sillana fuggì da roma andò per proteggere se stesso i suoi cari fino in asia va bene prima nella sabina e poi raggiunta la maggiore età partì per l'asia minore dove prestò servizio militare torniamo a noi al discorso che dicevamo allora quali sono i i le magistrature che cesare sviluppo intanto diciamo questo che però qui ho bisogno di mettere una un diverso eh layout scusate mi lo metto subito la barra laterale con la barra laterale va bene allora andiamo in presentazione eccoci qua benissimo allora caio giulio cesare ecco qua benissimo gaio giulio cesare ebbe una assolutamente veloce arriera politica quali furono gli elementi gli strumenti anche grazie al quale caio giulio cesare ebbe questa veloce carriera politica allora almeno tre elementi uno il fatto che gli era di nascita nobiliare il che in qualche modo come dire dava lui la patente l'agenza l'attività di candidarsi a quello che voleva quello che voleva il problema era insomma parteneva al notabilato cioè a una categoria sociale di persone a cui si riconosceva in automatico eh il diritto quasi il dovere di di trovare a candidarsi a determinate cariche quindi sicuramente l'amicizia nobiliare poi le amicizie importanti se preferite possiamo dire influenti cioè gli stessi passi delle amicizie importanti fra le quali per esempio quel Marco Licinio Crasso che è diventato in quei anni come abbiamo visto uno dei protagonisti uno dei protagonisti della vita politica romana questo Marco Licinio Crasso che divenne intimo che divenne amico di Cesare finanziò più volte Cesare nelle sue campagne elettorali questo significa che avevano un rapporto non solo di amicizia e di fiducia ma anche di reciproco scambio in politica cioè eh si davano manforte e eh se io ti finanzio ti finanzio anche perché presumibilmente voglio qualcosa in cambio in questa logica poi il terzo punto il terzo pilastro della veloce carriera politica romana fu l'uso spregiudicato della attività corruttiva esattamente quello che ho detto ragazzi la corruzione per corruzione si intende l'elargizione di ehm dov'è l'elargizione eh di eh prebende l'elargizione di boni l'elargizione di soldi per ottenere voti per ottenere consenso per ottenere decisioni da parte di chi hanno potere a se proprio favorevoli quindi fra le ehm fra le grandi eh i grandi pilastri appunto della veloce carriera politica di Cesare abbiamo il fatto che fosse nobile in nascita le sue importanti amicizie come quella con Marco Licinio Crasso e l'uso spregiudicato della corruzione. Bene, dicevamo che la carriera di Cesare fu una carriera veramente di un certo eh eh livello e di grande velocità diciamo semplicemente che egli eh esempio nel eccoci nel 69 avanti Cristo eh venne quest'ora va bene poi se non ve l'ho ricordato nel dettaglio non so niente andò a combattere a guidare una ulteriore ennesima guerra eh contro i eh pirati eh nel 63 avanti Cristo divenne pontifex pontifex maximus che significa ve lo traduco pontifex massimo ossia che vuol dire pontifex massimo vuol dire eh pontifex al livello al livello eh livello eh più alto va bene al livello più alto tra l'altro ehm vi dico solo questo pontifex eh è una parola composta composta da ecco qua composta da pons però ve lo metto all'accusativo ponte per così vi succede più facile più il verbo fa che bene eh cioè vuol dire facitore di ponti era la più alta quella del pontifex maximus era la più alta carica religiosa che significa facitore di pontifex facitore di ponti cioè colui che crea oppure costituisce lui stesso un ponte fra gli esseri gli esseri umani e le divinità mi dice niente che è fatto che il papa cattolico il papa il vescovo di rome il papa viene chiamato anche pontefice bene viene chiamato pontefice eh perché questo questo termine viene proprio da lì allora vi dicevo quindi fu eh che era una carica molto importante all'epoca e poi fu edile eh fu pretore eh fu inoltre anche governatore in Spagna va bene e eh come governatore in Spagna come mai fu governatore in Spagna voi direte se non era stato console ma vi ricorderete che i governatori potevano essere mi ricordate cosa potevano essere i governatori potevano essere o pro consoli oppure pro pretori va bene come vedete era stato pretore so right ragazzi va bene ok in Spagna succede che Cesare ehm ha grandi successi militari e i suoi soldati cominciano a considerare un poco alla stessa stregua di come i soldati di Pompeo in Oriente avevano considerato Pompeo e infatti c'è quindi ad altissimi livelli di stima e infatti eh infatti Cesare viene chiamato dai suoi soldati Spagna imperato cioè colui che detiene il nome di ehm colui che detiene il potere militare va bene fermi un attimo fermi un attimo in tutto ciò in tutto ciò in tutto ciò che succede succede che certo congiura di Catilina quella che aveva visto nel 63 avanti Cristo Ciccione in qualità di console fare le sue famose orazioni in senato contro Catilina e scongiurare così il colpo di stato di Costugno abbiamo visto come Cicerone riesce a far condannare a morte Catilina e i catilinai catiliniani scusatemi e eh a farli condannare a morte senza nemmeno processo cosa che in sé era era illegale passa la vicenda di Catilina passa la vicenda di Catilina Cesare a questo punto ritorna dalla Spagna e abbiamo Cesare che sta avendo una carriera politica il cursus sonorum che è equivalente al nostro carriera politica sta svolgendo un cursus sonorum comunque strepitoso molto veloce tuttavia Cesare si trovava ad essere contrastato dagli optimates da un lato dall'altro lato e Cesare però desiderava arrivare al top del cursus sonorum che era appunto il consolato anche se nella testolina aveva progetti ancora ma ancora più avanzati ora vedremo dall'altro lato c'era Pompeo il più grande il più celebre generale romano quello che aveva creato le province dell'Ucino Oriente il quale non aveva per nulla buoni rapporti abbiamo visto con gli optimates e d'altro lato c'era anche Marco Licinio Crasso l'uomo più ricco di Roma e quindi uno degli uomini più ricchi del mondo all'epoca il quale non era non apparteneva all'oligarchia senatoria magari sicuramente probabilmente non ve lo ricordate ve lo sto ricordando io egli era un ovus era un cavaliere non era uno che apparteneva alla categoria dei senatori allora Cesare ha un'idea lui desiderava arrivare al consolato ma per arrivare al consolato aveva bisogno dell'appoggio di quante più persone possibili e allora nella festa di Cesare nasce una proposta una proposta che era un patto segreto un patto segreto assolutamente privato che difficilmente si potrebbe definire legale un patto segreto totalmente privato tra se stesso Cesare Pompeo e Crasso e allora questi si riuniscono e danno luogo a quello che gli storici hanno definito il primo triunvirato il primo triunvirato e lo scrivo il primo triunvirato come mai triunvirato? trium viene da tres che vuol dire tre e virato viene da vir che vuol dire uomo quindi il triunvirato è l'unione intima di tre uomini va bene? questa è una definizione storiografica in realtà questo triunvirato che non è scorretto chiamare in questo modo era un patto assolutamente privato ed era un patto di potere Cesare quindi riunisce Pompeo e Crasso e gli dice dice loro sentite io voglio diventare console se voi mi aiutate a diventare console quindi mi fate dare i voti dalla vostra clientela allora io se divento console farò così a te Pompeo farò in modo che venga riconosciuta la distribuzione di terre ai tuoi veterani e cercherò di fare di tutto perché vengano riconosciute le province d'Oriente a te invece Crasso farò in modo che ci siano per te farò in modo che ci siano dei vantaggi economiche finanziari per tutti gli imprenditori per colori come te Crasso sono affaristi allora il triunvirato viene stipulato il patto del triunvirato questo patto privato e segreto viene stipulato nel 60 avanti Cristo con il risultato che queste tre persone Cesare Pompeo e Crasso di fatto diventano i padroni incontrattati di Roma ora io ho utilizzato poco fa una parola difficile purtroppo la lezione volge al termine ahimè sono veramente pochi questi minuti diciamo il termine difficile che ho utilizzato poco fa è clientela che cos'è la clientela la clientela è l'insieme dei clients dei clientes bene ossia dei clienti praticamente che succede succede che c'era una gang coloro i quali appartenevano le famiglie che appartenevano a Ghent in qualche modo Ghent sentirete dire più delle volte io lo sento il residuo Ghent queste famiglie si difendevano ma c'erano coloro i quali non erano nobili eccetera che non avevano questa struttura clanica di protezione e allora una persona che non poteva mandare una famiglia potente per trovare protezione e sostegno in quel particolare contesto storico che faceva si cercava un patronus un patronus attenzione che patronus da cui viene padrone per carità viene da pater che significa padre va bene cioè un protettore un patronus allora facciamo finta che io sono nessuno e chiedo a Cesare Cesare mi metti sotto la tua ala protettiva se ho bisogno di aiuto per qualsiasi motivo mi posso rivolgere a te allora Cesare diventa il mio patronus e io divento il suo lì ve lo scrivo all'accusativo il suo clientem va bene ok a sto punto torniamo a noi rimangono gli ultimissimi minuti ahimè non ci posso fare niente allora dunque ragazzi questo patto del primo triunviato viene stipulato nel 60 avanti Cristo va bene allora che cosa succede succede che effettivamente Cesare nel 59 avanti Cristo nel 59 avanti Cristo viene consul e grazie a uno i voti della clientela di Crasso di Marco Cicino Crasso cioè di tutte le persone che erano sotto l'ala protettiva di Marco Cicino Crasso stesso tutti i voti della clientela di Gneo Pompeo ok numero uno voti della clientela di Crasso voti della clientela di Pompeo e alla faccia dell'immagine che di Cesare c'è stata tramandata anche le intimidazioni agli avversari cosa sono le intimidazioni le intimidazioni sono le minacce t'ammazzo ti faccio danno cos'è rotte eh dunque grazie ai voti della clientela di Crasso grazie ai voti della clientela di Pompeo grazie alle intimidazioni agli avversari Cesare viene eletto nel 59 avanti Cristo console e appena Cesare viene eletto console subito subito mantiene le sue promesse uno fa approvare le tribuni la distribuzione di terre di Pompeo due fa anche approvare il riconoscimento delle province orientali e dei protettorati lo fa riconoscere al Senato con la miaccia ma Pompeo non può che essere contento questo per fare contento Pompeo ho capito che è finito sto chiudendo l'azione tranquillo mamma mia ok c'è la parola ok ok prendere dicevo scusatemi dei provvedimenti finanziari prendere cos'è che aveva promesso vi dicevo a crasso di prendere dei provvedimenti finanziari per i suoi amici affaristi cosa che effettivamente cesare fa sapete come fa riduce la quota che i pubblicani dell'asia dovevano dare allo stato fermi i pubblicani che erano quelli che per conto dello stato raccoglievano le tasse giusto ed è uno due vi ricordate come funzionava se lo stato diceva il senato mi devi dare un milione di 6 terzi se i pubblicani ne raccoglievano due milioni e mezzo un milione andava allo stato un milione e mezzo se lo tenevano loro ovviamente non lo potevano se lo stato chiedeva un milione loro potevano raccogliere un milione e tre o un milione e quattro cesare riduce le quote dei pubblicani d'asia allo stato cioè anziché dire un milione scendiamo la 600 mila così i pubblicani continuavano ad accogliere gli stessi soldi e in tasca gli rimanevano più soldini chiudo dicendovi solo questo e a cesare che cosa andava a cesare intanto ci sarebbe per consolato ed era contento ma lui per sé voleva un'altra cosa voleva il pro consolato in gallia e ci fermiamo qua alla prossima puntata va bene ragazzi io vi saluto pazienza per questa pausetta che c'è stata e ciao a tutti